Credo che Banana e la signorina Onei non andranno a vedere la partita allo stadio. Draghetto Daisy, sei stato tu ad attaccare quei palloncini al castello? Che draghetto spiritoso! Guardate questi gecchi dal buffo aspetto, amici miei! Scommetto che lo strambo acconciatore è stato qui. È troppo scivoloso e sono proprio davanti a noi. Spostatevi, per favore. Sono di nuovo pulito. Quello deve essere uno spolverino di piuma volante e pulisci tutto dappertutto. Si sposti la prego, leone marino. Perché questo grande leone marino non ci lascia passare? Benvenuti alla lezione di navigazione dei leoni marini. Questi piccoli leoni marini stavano seguendo una lezione di navigazione. Ma la fatina fluttuante è passata e ha fatto fluttuare le barche in cielo con la sua azione. L'insegnante ha bisogno di noi perché ogni barca al suo posto possa tornare. Coraggio, afferrate le cime! E in mare torneranno a navigare. Ha quasi colpito la nostra auto. Fastona, afferrez! Fac organized. Certos.